buongiorno a tutti oggi prepariamo la scatoppina di salmone con fagiolini caramellati vediamo gli ingredienti il nostro salmone del burro dell'aglio della menta tritata i fagiolini della farina sale pomodoro e zucchero di canna due padelle una per i fagiolino l'altro per la scalottina andiamo a mettere l'olio extravergine lo spicchio d'aglio alziamo la fiamma qui mettiamo a sciogliere il nostro burro poniamo i nostri fagiolini nel frattempo che il burro scioglie diamo una passata leggera al salmone con la farina lasciamo cucinare per alcuni minuti passati due minuti possiamo andare a togliere il nostro aglio aggiungiamo il nostro pomodoro fiamma al minimo aggiungiamo lo zucchero e nel frattempo possiamo girare la nostra scatoppina la cottura la scegliete voi raggiunta la nostra cottura desiderata possiamo andare a raggiungere del vino bianco alziamo la fiamma aggiungiamo dell'acqua e continuiamo la cottura per altri due o tre minuti affinché l'acqua diventa una cremina possiamo andare a spegnere i nostri fagiolini e aggiungiamo della menta del sale e anche il salmone una volta che l'acqua si è ristretta possiamo andare a comporre il nostro piatto fagiolini il salmone scatoppina di salmone con fagiolini caramellati di salmone